Siamo qui con Fabrizio Pagliettini, presidente dell'associazione direttori tecnici circoli di golf, nonché direttore del golf club di Rapallo. Durante il meeting i relatori, anche lei, hanno fatto emergere diversi aspetti del golf poco conosciuti rispetto ad altri sport. Quali sono le peculiarità del golf, le possibilità di interazione a livello di socialità e le ricadute anche sul territorio? Ti ringrazio molto di questa domanda che mi dà la possibilità di parlare di un golf nuovo a livello culturale che si affaccia al mondo con delle peculiarità che lo rendono in tutto il mondo lo sport gioco più giocato in assoluto. In Italia queste peculiarità sono ancora poco conosciute ed è lì che dobbiamo cercare assolutamente di promuovere. Parlo del binomio golf salute per esempio, del binomio golf famiglia, laddove è possibile vedere il nonno giocare con il nipote o il figlio con il proprio papà e nessuno dei due fa un piacere all'altro ma hanno il piacere di stare insieme attraverso questa meravigliosa disciplina. Insomma parlare di golf poi ovviamente non si può non ricordare il binomio golf turismo, siamo in una location e in un momento di comunicazione assolutamente adatta a questo binomio che fa sì che si possa capire quanti milioni di persone girino il mondo con la sacca da golf per conoscere il territorio ma anche per poter praticare questo meraviglioso sport. È un momento importante questo perché è il momento di poter veramente evidenziare e questo grazie anche a media come i vostri queste peculiarità per far sì che la gente possa scoprire un'opportunità in più. Grazie alla piattaforma Best Golf assistiamo per la prima volta in maniera professionale all'incontro tra il mondo del golf e quello alberghiero. Come esponente del settore quali opportunità secondo lei vi saranno grazie a diversi servizi offerti da questo portale? Best Golf ci dà una grandissima opportunità. Io ho aperto l'intervento parlando di quello che è stato il golf fino a metà degli anni 90 laddove la sinergia con gli hotel era molto difficile perché era un golf assolutamente riservato tra virgolette agli associati dei vari club. Oggi non è più così la sinergia è fondamentale perché il bene degli hotel è il bene dei circoli di golf e viceversa. Noi possiamo essere come rappresentanti dei golf un volano di grandissima importanza per gli hotel così come loro dandoci la possibilità di fare dei pacchetti all'altezza possono offrirci l'opportunità di avere delle nuove frequentazioni nei nostri circoli. Quindi Best Golf dà questa impostazione basilare per noi da adesso in poi ovvero sia la possibilità di gestire al meglio le prenotazioni siano esse di soci o di ospiti italiani ma soprattutto di poter anche evidenziare quelli che sono i pacchetti con l'estero per poter far diventare l'Italia una destinazione turistica legata al golf di primissima importanza. Presidente grazie mille per questa intervista. Grazie a voi, grazie di quello che fate e buon lavoro. Grazie a voi, grazie a voi.